Questa giornata di oggi la vogliamo cominciare con uno sguardo rivolto a ieri, anniversario, il 22 febbraio, della prima apparizione di Gesù a Sor Faustina Kowalska. Vogliamo ripercorrere quella che è la sua vita, ma non solo quest'oggi. Non solo, perché parleremo anche di Maria, parleremo di una Madonna, la Madonna delle Grazie, in un luogo specifico, Pennabilli, dove ci collegheremo tra pochissimo per vivere insieme quei tantissimi miracoli che questa Madonna ha elargito. Prima però, andiamo al centro, guadagniamo il centro del nostro studio e invitiamo qua da noi Madre Rebecca Nazzaro, che ritorna a trovarci con grandissimo piacere. Buongiorno Madre Rebecca, accomodiamoci. Madre superiore delle missionarie della Divina Rivelazione. Madre Rebecca, stamattina noi vogliamo guardare a ieri, ma in realtà lo facciamo in questo tempo di Quaresima, lo facciamo in questo tempo che iniziamo adesso a vivere, all'apparizione che Gesù fa a Suor Faustina Kowalska. L'abbiamo detto, era il 22 febbraio 1931, sono passati 92 anni, da quel giorno in cui Gesù affida a Suor Faustina l'immagine di un Gesù che è diverso da quello a cui siamo abituati, di un Gesù che è risorto, da cui scaturiscono sangue e acqua, e di un Gesù in cui tutti quanti noi possiamo confidare. Sì, lui si presenta così a Suor Faustina con una modalità completamente nuova. Comunque lui riesce a spiegare a Suor Faustina che quello sguardo che lei vede di Gesù è lo stesso sguardo che Gesù aveva in croce. C'è un'assimilazione tra il Venerdì Santo e quindi la passione di Gesù che si conclude con la sua morte e il dono che lui fa attraverso questa apparizione di Gesù, il dono della misericordia. Certo, noi sappiamo che la misericordia è uno degli attributi di Dio. Già nell'Antico Testamento tante volte si parla della misericordia. Ad esempio il Salmo 135 lo ripete 26 volte perché è eterna la sua misericordia. Celebrate il Signore perché è buono, perché è eterna la sua misericordia. Ma in questa visione Gesù vuole sottolineare una particolarità della sua misericordia. Gesù non è solamente buono, misericordioso, accogliente, grazioso, beato, padre, ma è potenza. La misericordia è la potenza divina, quella potenza che pone un limite al male. Ecco perché Gesù desidera che quella coroncina poi della divina misericordia venga anche recitata per gli agonizzanti, per coloro che non neanche più la possibilità di pregare e anche per coloro che sono lontano dalla misericordia di Dio. Quindi quei due raggi di acqua e sangue che rappresentano la purificazione e la salvezza penetrano l'anima della persona agonizzante attraverso la fede di colui o di colei che lo recita e quindi garantisce Gesù in questo eccesso della sua misericordia, garantisce la salvezza. Il dono della misericordia è un dono che continua a essere fatto e ricordavi appunto gli agonizzanti, insomma chi vive la sofferenza al massimo livello in questa vita. Il suo Faustina stessa visse la sofferenza e visse la sofferenza di Gesù. Fu in stretta comunanza con questo, non solo con stigmate nascoste ma con una viva partecipazione. In questo riusciva a essere ancora più connessa non solo alla misericordia ma anche al mistero pasquale che poi siamo chiamati in questo tempo a vivere e a meditare. Riconciliazione e misericordia sono strettamente connessi, quindi nel Pio della Quaresima la Chiesa ci invita a ritornare, ritornare in sé stessi, non come la paraba del figlio del prodigo e nel Vangelo si dice rientro in sé e disse padre ho peccato contro il cielo e contro di te. Quindi il momento così propizio della Quaresima è proprio quello di rientrare in noi stessi e di abbracciare questo padre che ci attende e che ci vuole donare la sua misericordia che è tutto il suo amore. Quindi il peccato non è altro che, se vogliamo prendere la parola dalla etimologia greca, non vuol dire altro che sbagliare strada, sbagliare mira. Il peccato ci allontana dalla via del Signore, quindi ritornare con il sacramento e la riconciliazione quindi della confessione è rimettersi sulla via giusta, è un po' quando noi usiamo il navigatore che abbiamo perso la strada e allora ci riconduce sulla strada giusta. È un po' questo, quindi è un tempo propizio dove Gesù dice a Suor Faustina di celebrare la sua misericordia con una preparazione per la festa della misericordia che è la domenica dopo Pasqua. La preparazione della novena che parte proprio dal venerdì santo e si conclude il giorno della seconda domenica di Pasqua. Quindi in questi nove giorni Gesù ci invita a meditare gli effetti di questa sua grande misericordia verso l'umanità. Lui dice la tavola della salvezza, più di questo non posso fare prima del mio ritorno. Quindi abbracciate tutti questa divina misericordia, vivete nella grazia di Dio, ripetete Gesù confido in te, aiutate le anime a ritrovare la strada per il Signore, io che sono la via, la verità e la vita. Questo ci porta ad un luogo, se tu hai detto il Signore ci invita a tavola con Lui, ci sono dei luoghi dove sedersi a quella tavola e c'è un luogo a Roma che è Santo Spirito in Sassia che è un po' il cuore pulsante della spiritualità della Divina Misericordia qui a Roma. è a due passi da San Pietro e vogliamo portarvici con questo servizio. Noi ci troviamo nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, a pochi passi da San Pietro, chiesa personalmente scelta da Giovanni Paolo II, oggi santo, perché da questa chiesa si innalzasse il grido alla Divina Misericordia e si diffondi da questa chiesa il culto della Divina Misericordia trasmesso da Santa Faustina Kowalska. E questa immagine, proprio in questa cappella, è anche il dono proprio di Giovanni Paolo II che ha voluto donarci proprio questa immagine ed è la prima immagine della Divina Misericordia benedetta da Papa Giovanni Paolo II, proprio durante la sua visita, 23 aprile 1995. Ci siamo spostati dalla cappella di Gesù Misericordioso, proprio di fronte, dietro di me, la cappella che abbiamo voluto dedicare al San Giovanni Paolo II, Papa della Divina Misericordia. Ecco, la festa della Divina Misericordia di quest'anno coincide proprio con la visita che ha compiuto Giovanni Paolo II, possiamo dire, in questo suo Tempio di Misericordia. Per chi Papa è venuto qui 23 aprile 1995. E questa icona di Gesù Misericordioso, dopo l'anno santo di Misericordia, veramente oggi è conosciuta, nota quasi in tutte le chiese del mondo intero. E così si realizza il desiderio che Gesù ha lasciato a Suor Faustina affinché tutti gli uomini abbiano accesso a questa immagine e possano confidare la loro vita e consacrare la loro vita alla Divina Misericordia. Quell'immagine che conosciamo, che conoscono veramente tutti quanti, che ci viene da Santa Faustina Kowalska, a sua volta fu ripresa in mano, custodita e resa ancora più, entrata insomma ancora di più nel cuore di tutti grazie a un uomo, a un Papa che a sua volta divenne santo. È curioso vedere come le figure di santità continuino a raccontare un messaggio originario che è sempre lo stesso e che acquisisce e prende sempre maggiore forza. Sì, e poi queste sono le cosiddette dioincidenze perché lui comunque come sacerdote a Cracovia andava a trovare questo luogo dove si custodiva, già si venerava questa immagine, lui era molto devoto, quindi ha creduto fin dall'inizio a questa devozione a Divina Misericordia, l'ha portata con sé fino a quando ha potuto proclamare la festa, la Domenica della Divina Misericordia, fino a quando addirittura ha canonizzato Santa Faustina, quindi anche qui c'è tutto un legame, un piano di Dio personale, ecclesiale, dobbiamo semplicemente lasciarci un po' guidare e saper leggere gli eventi che il Signore pone nella nostra storia, quindi la misericordia, la devozione, la Divina Misericordia ci invita ad essere legati al Signore, a non dubitare mai, pur nelle difficoltà, pur nelle tragedie, perché Suor Faustina riceve questo prima della Seconda Guerra Mondiale, poi succederà il disastro, come un disastro che stiamo vivendo nei nostri tempi, eppure Gesù ci dice che la Divina Misericordia pone un limite a questo male, noi non siamo sopraffatti dal male, questo male è limitato perché se muoiono i corpi non muoiono le anime, perché il bene più grande, il dono più grande è quello di salvare l'anima, e i due raggi del bianco e rosso indicano proprio questo, Dio garantisce, Gesù garantisce attraverso Sua Misericordia la salvezza delle anime. Madre Rebecca, prima mentre parlavi ci hai detto che nell'apparizione di cui stiamo parlando, quella di ieri, in qualche modo Gesù spiega a Suor Faustina come questa immagine, proprio questa che stiamo vedendo, sia la stessa di Gesù sulla croce, noi siamo abituati a vedere un Gesù sulla croce sofferente, siamo abituati a vedere un Gesù sulla croce con una corona di spine, o comunque con i segni della corona di spine, prima abbiamo visto proprio un'immagine che passava dalla sindone al Gesù Misericordioso, dall'immagine di Gesù sofferente all'immagine di Gesù risorto, è il mistero della Pasqua rappresentato in una sola immagine. Sì, perché quello sguardo di Gesù è uno sguardo di compassione, non è uno sguardo di vendetta, Gesù dice sulla croce, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, anche qui c'è la prima grande mediazione della salvezza, tante anime non conoscono l'amore di Dio, l'amore di Gesù, il senso profondo della salvezza dell'anima, quindi quello sguardo è uno sguardo non di giustizia, non di vendetta, è uno sguardo compassionevole di colui che si è fatto uomo, perché Gesù è Dio fatto uomo alla natura divina umana, di colui che si è fatto uomo per riportare l'uomo alla divinità in quel luogo che ha perso, che si chiama paradiso. Abbiamo nominato Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, allora vogliamo ritornare con voi a quel 17 agosto del 2002, quando un centro propulsivo di misericordia veniva consacrato proprio da lui, andando direttamente nella sua terra, la Polonia, guardiamo. Desidero dire che molti dei miei ricordi personali sono legati a questo luogo. Venivo qui soprattutto durante l'occupazione nazista, quando lavoravo nel vicino stabilimento Solvei. Ancora oggi ricordo la via che porta da Borek Falechi ad Ebniki. La percorrevo tutti i giorni, andando a lavorare in diversi turni, con le scarpe di legno ai piedi. Allora si portavano quelle. Come era possibile immaginare che quell'uomo con gli zoccoli un giorno avrebbe consacrato la Basilica della Divina Misericordia a Wagibniki di Cracovia. Mi rallegro per la costruzione di questo bel tempio dedicato alla misericordia divina. Misericordia Misericordia È un colpo al cuore vedere Giovanni Paolo II, ascoltarlo parlare, pensare a quel bambino che tante ne ha passate già da quando era bambino e dire che lui stesso si stupisce del fatto che quella devozione che lui si porta dentro, quei passi che lui ha percorso, adesso li percorreranno in tanti. Adesso sarà un santuario di quella Divina Misericordia a cui lui ha sempre confidato. Sì, è un po', possiamo chiamarla anche un po' la parafrasi della nostra vita. Noi compiamo dei passi, viviamo giorno dopo giorno e non ci rendiamo conto che la nostra vita è legata ad un piano di Dio, a un progetto di Dio, all'amore di Dio. Quindi queste grandi figure non fanno altro che testimoniare che come il Signore si è servito dei grandi, si serve anche dei piccoli. Ognuno di noi è chiamato ad essere strumento nelle mani del Signore per cooperare alla salvezza di tante anime. Quindi la coroncina e la Divina Misericordia, il quadro di Gesù Misericordioso, la novena, la Divina Misericordia. Sono tutti strumenti nelle mani di Dio dove Gesù può entrare e donarci tutte le sue benedizioni e le sue grazie. E le benedizioni, i doni, l'abbiamo detto, insomma arrivarono anche nella vita di Santa Faustina che però scrive nel suo diario, né le grazie, né le rivelazioni, né le estasi, né alcun altro dono ad essere largito, la rendono perfetta, ma l'unione intima della mia anima con Dio. È proprio questo forse il cuore di ciò che possiamo apprendere, apprendere non solamente con il pensiero, ma apprendere veramente dall'esperienza di Santa Faustina. Lei era molto sofferente anche perché all'inizio ha dovuto superare anche l'incredulità di tutto quello che lei viveva, però l'ha salvata, diciamo così, e l'ha santificata l'obbedienza. L'obbedienza alla sua madre superiore, all'obbedienza ai suoi confessori, quindi pur nella sofferenza poi lei si rivolgeva di nuovo a Gesù, le diceva ma che cosa devo fare? Gesù le ha sempre detto non temere, sarò io che organizzerò tutto e farò tutto, tant'è vero che il suo confessore non voleva neanche esporre all'inizio il quadro perché era una cosa talmente nuova, una visione nuova, non si conoscevano. Lei era comunque una suora che non era ancora passata, diciamo così, al vaglio delle autorità ecclesiastiche, quindi il sacerdote non voleva mostrare pubblicamente il quadro appena dipinto, però la provvidenza ha voluto che proprio alla fine del giubileo della redenzione il sacerdote viene chiamato proprio in quella chiesa dedicata alla Madonna dove appunto lui dice e chiede di esporre il quadro e così arriva la prima grande esposizione. Per dire tutto è nelle mani del Signore, anche nella sofferenza il Signore ci conduce. È anche un modo per diffondere quella devozione, quell'amore misericordioso di cui stiamo tanto parlando, un modo è anche quello di continuare a rivivere le persone che l'hanno fatta grande. Santa Faustina dopo la sua morte ovviamente abbiamo visto è salita agli onori degli altari nonostante tutte le difficoltà della sua vita e le sue reliquie sono custodite non solo in Polonia ma un po' in giro come la devozione di cui si è fatta promotrice. Vogliamo portarvi in un posto incantato, Santa Maria delle Vedute, a Fucecchio dove sono custodite proprio alcune reliquie di Santa Faustina Covasca. Ci troviamo a Fucecchio nel santuario di Santa Maria delle Vedute nella zona di Val d'Arno, nostro santuario dove viene venerata immagine della Madonna ormai da 300 anni, riconosciuta molto la sua presenza e come mediatrice di grazie. La mia vocazione è nata nel 1983, grazie senz'altro anche a questa presenza di papà Giovanni Paolo II. Nel 1984 ci siamo con il padre spirituale andati proprio nel santuario delle suore della Divina Misericordia a Cracovia e là abbiamo conosciuto questa devozione ancora locale verso la Divina Misericordia e la presenza, questa figura rappresentativa di Suor Faustina, legata molto come apostola della Divina Misericordia. E là è nata questa mia esperienza personale spirituale verso la Divina Misericordia che l'ho portata come mia esperienza anche sacerdotale in tutte le parrocchie dove ho svolto la mia missione pastorale. Vediamo qui al centro questo grande dono per la nostra comunità, frutto delle nostre preghiere, della nostra devozione alla Divina Misericordia, questo dono che ci è stato donato dalle suore e della congregazione della Madre della Divina Misericordia da Cracovia. Ecco le reliquie della Suor Faustina del primo grado, una grande santa di questi nostri tempi nella sua grande semplicità e umilità. Per l'intero anno, tutti i venerdì, una delle intenzioni era quello di affidare il nostro lavoro della realizzazione anche di questo centro alla Divina Misericordia. Oltre tante raccomandazioni c'è stata sempre questa intenzione di realizzazione di questo centro dell'oratorio del Parco Inclusivo, l'unico in Toscana per bambini abili e disabili. E la fine è arrivato. Oggi in viaggio per l'Italia e per il mondo stiamo raccontando, stiamo parlando di quella misericordia che ci arriva dalle apparizioni di Gesù a Santa Faustina Kowalska e se prima parlavamo in questo tempo di quaresima, ne stiamo parlando di riconciliazione, di unione dell'anima con Dio e di invito alla conversione, non posso non pensare all'abito che indossi, alle missionarie della Divina Rivelazione e a quello stesso invito alla conversione e a quelle promesse di miracoli che ci arrivano proprio dalla storia che il tuo abito ci racconta. Sì, anche lì la Vergine della Rivelazione, la Grotta delle Tre Fontane, dice a Bruno Cornacchiola tu mi perseguiti, ora basta, rientra nello ville santo col te cesto in terra, cioè rientra nella Chiesa Cattolica. La vera Chiesa di mio figlio è fondata sui tre bianchi amori, amore all'Eucaristia, amore all'Immacolata e amore al Santo Padre. Anche quella è una storia di misericordia dove Bruno Cornacchiola rientra finalmente nella Chiesa Cattolica. Di quella storia e non solo vogliamo parlare tra un attimo, andiamo un attimo in pubblicità e poi rimanete con noi perché vi portiamo a scoprire un santuario, il santuario della Madonna delle Grazie di Pennabili, un'altra dispensatrice di grazie, un'altra dispensatrice di misericordia. Tra un attimo dopo la pubblicità. Questo tempo di Quaresima è un tempo propizio, propizio e infatti abbiamo parlato, stiamo parlando di misericordia con Madre Rebecca Nazzaro, Madre Superiore delle Missionarie della Divina Rivelazione e vogliamo anche andare indietro nel tempo a un 23 di febbraio di appena qualche anno fa, anzi qualche secolo fa e vogliamo portarvi a Pennabili e farlo con Sua Eccellenza Monsignor Andrea Turazzi, Vescovo della Diocesi di San Marino, Montefentro che dovrebbe essere collegato con noi. Buongiorno Eccellenza. Buon mattino a tutti. Assolutamente buon mattino, di buon mattino insomma di nome e di fatto. Allora vogliamo andare, dicevo, qualche anno fa, in particolar modo nel 1517, nel 1523, un momento in cui a Pennabilli, siamo in provincia di Rimini, accadde un evento prodigioso che ebbe come protagonista la Madonna. Si parla di protezione in questo caso, di un manto che come ha protetto allora continua a proteggere? Sì, abbiamo questo segno di particolare presenza della Vergine Maria sul nostro territorio. La Diocesi è abbastanza grande dal punto di vista geografico, anche se attualmente gli abitanti a causa dell'immigrazione sono molto diminuiti, circa un 70 mila abitanti. Diocesi è una diocesi un po' singolare perché comprende nel Monte Feltro anche la Repubblica di San Marino, dove c'è la concentrazione più grande della popolazione. Con alcuni amici si è fatto un tentativo, forse spero che non sia così una forma di campanilismo, ma vedere di ennucleare quello che può essere il libro della spiritualità tipica di queste zone. Siamo nel centro dell'Italia e gli elementi che possono caratterizzare la spiritualità di questa terra, c'è sicuramente la presenza di tanti movimenti religiosi, spirituali, eremiti. Attualmente, ad esempio, abbiamo sette monasteri di clausura, due esperienze di tere mitica, ma fra gli elementi sicuramente uno, l'elemento determinante, è la presenza di Maria. Mi sono sette santuari a lei dedicati, so che in uno in particolare voglio riferire questo fatto, recentemente è stata fatta la riscoperta di un affresco e si è voluto non fare un restauro interpretativo, ma come si fa ora, un affresco conservativo, dove appare l'immagine della Vergine, ma è appena accennato. Bene, a me pare che questo segno voglia anche dire un aspetto importante della devozione mariana, che certamente è fatta di pellegrinaggi, è fatta di preghiere, di tutto quello appunto che esprime la devozione, ma è soprattutto un invito a imitare Maria, l'imitazione. Quindi, come se Maria dicesse, io voglio specchiarmi, quindi la spiritualità mariana come imitazione. Per specchiarsi in quel volto e per imitare Maria bisogna andare anche magari talvolta in quei luoghi e noi vogliamo portare, lei che ovviamente lo conoscerà, madre Rebecca e tutti i nostri telespettatori che ci guardano da casa, proprio al santuario della Madonna di Pennabilli sul luogo del miracolo, con questo servizio. Siamo a Pennabilli, in provincia di Rimini, nel cuore della Val Marecchia, di fianco a quello che è chiamata la chiesa di Sant'Agostino, ma anche santuario della Beata Vergine delle Grazie o chiesa di San Cristoforo. Ci sono due apparizioni, il 23 febbraio del 1517 e il 23 febbraio del 1522, quando la Madonna, apparendo in cielo, di fatto sbaragliò i nemici che assediavano Pennabilli, guidati da Giovanni delle Bandenere ad opera dei Fiorentini. Quindi in queste due occasioni i pennesi riconobbero la intercessione di Maria e la salvezza della città dovuta a questo intervento miracoloso. Siamo davanti al cuore del santuario dedicato alla Beata Vergine delle Grazie e siamo davanti all'affresco, all'immagine della Madonna. La Madonna con una mano indica il figlio, nella mano invece ha il cardellino che secondo alcuni interpreti, alcuni studiosi dicono che è il simbolo della passione. La devozione da parte dei fedeli cominciò dopo la lacrimazione della Madonna che avvenne il terzo venerdì di marzo del 1489. Ci sono le cronache del tempo che descrivono una chiesa molto piena perché c'erano i quaresimali cosiddetti allora. Durante una di queste celebrazioni la Madonna, come dicono le cronache, lacrimò più volte dall'occhio destro e queste lacrime furono più volte sciugate ma continuarono a sgorgare. Probabilmente a pianto proprio consapevole di quello che sarebbero stati i mali dell'umanità, così dice la lapide che c'è sul fianco del monumento, questo evento è stato fissato in una festa annuale cosiddetta del venerdì bello, tant'è che c'era anche un proverbio, un adagio che diceva chi vuol vedere Pennabilli o le Pennesi in sfarzo vi giunga il terzo venerdì di marzo. Anche nella seconda guerra mondiale il vescovo di allora Monsignor De Zanche fece voto che se il Monte Feltro fosse stato preservato dai disastri della guerra, qui passava la linea gotica, ecco avrebbe come dire sciolto un voto la Madonna ristrutturando il santuario. Così avvenne nel 44, il giorno della liberazione di Pennabilli, la Madonna fu proclamata regina. del Monte Feltro. Tantissimi pennesi e non solo, anche diocesani, lungo l'arco della storia hanno testato di avere ricevuto grazie su grazie da parte della Madonna. Eccellenza, a distanza di secoli che cosa ci racconta ancora quel miracolo? Sicuramente la prossimità di Maria al popolo, a queste popolazioni che hanno avuto anche tante prove, perché il territorio nel cuore dell'Italia è stato teatro tante volte di battaglie, di guerre. L'antica cattedrale, ad esempio, era San Leo e poi, a causa delle tensioni fra i Monte Feltro e i Malatesta, ha dovuto essere trasportata in altri luoghi del Monte Feltro e attualmente dal 1570 qui a Pennabilli. tra le immagini mariane più frequenti che si trovano nelle chiese, tantissime sono dedicate alla Madonna, troviamo il ricordo di Maria addolorata, l'addolorata, proprio per questa prossimità della Vergine alla sofferenza di questo popolo. Poi ritorna anche l'immagine che poi è stata così illustrata da Piero della Francesca, la Madonna che allarghi il mantello e raccoglie i suoi figli sotto il suo manto. Un manto che si estende da Pennabilli fino qui a Roma, perché oggi Madre Rebecca è anche una giornata importante per il santuario delle Tre Fontane, era il 23 febbraio 1982. Sì, la Vergine Maria chiede, nella località del dove lei ha posato i suoi piedi, 12 aprile 1947, lei chiede la costruzione di un santuario, più grande adesso rispetto a quello che c'è adesso, lei dice qui gli assetati, gli smarriti troveranno il vero senso della vita, troveranno la fonte della misericordia. Quindi mi sembra anche questa una bella coincidenza proprio in questo giorno. Assolutamente non lasciamo nulla al caso. Monsignor Turazzi, siamo in chiusura e siamo comunque sempre in Quaresima. In che modo la presenza di Maria, i segni che ci ha lasciato, ci possono aiutare a vivere in maniera ancora più propizia a questo momento forte? Ma io credo che dobbiamo riprendere seriamente questo tempo di Quaresima sentendoci vicini, soprattutto alle realtà di sofferenza di questo tempo. Penso sicuramente alla guerra, penso alle vicende del terremoto che ha colpito la Siria, la Turchia e vorrei anche dire che questo tempo di Quaresima deve avvicinarci sempre di più all'ascolto della parola del Signore, la parola di Dio. C'è qui da noi un'immagine della Madonna che tiene sulle ginocchia, non Gesù bambino. Il libro, il libro delle scritture, mi piace molto questa immagine perché, come dire, indica la strada migliore, anche più sicura per noi, per in qualche modo mettere al mondo Gesù, che è vivere la sua parola. Vivendo la parola certamente siamo essenzialmente mariani. E questo è un po' quello che ci ha condotto qui questa mattina. Io ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Andrea Turazzi per essere stato con noi, Vescovo della Diocesi di San Marino e Montefeltro. ringrazio Madre Rebecca Nazaro, missionaria della Divina Rivelazione, per averci accompagnato mano per mano in questo viaggio e in questa mattinata. Una buona giornata a voi.